Sì, credo che questa inaugurazione in Valbornida, che è attualmente area di crisi, sia un segnale bellissimo per la provincia. Credo che l'area di crisi debba essere, dobbiamo essere bravi a trasformarla in opportunità nel futuro. Credo che questo sia un bellissimo segnale in controtendenza rispetto alla situazione attuale, ma che deve essere un esempio per i prossimi anni.